ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video dunque se non l'avete visto andate a guardarlo perché avevo fatto un video dove avevo fatto vedere tutta la fase tutti i componenti che avevo montato sul mio furgone l'autosufficienza l'indipendenza energetica per quanto riguarda la cellula perché nella cellula o 230 volte con un inverter o un piccolo impiantino fotovoltaico con un pannello tutte le protezioni del caso è un regolatore di carica ipiver che mi gestisce il tutto se ben vi ricordate ai tempi avevo montato una piccola batteria da 60 per ora avevo deciso di metterla di questo formato e in questo taglio perché ritenevo che mi potesse bastare effettivamente per un po di tempo è stato così ma ultimamente sto usando molto il compressore mi sto ritrovando a caricare sempre di continuo tutte le batterie perché le uso una dopo l'altra e mi sono anche trovato a dover alimentare degli alloggi dei cantieri senza corrente e l'unica cosa che avevo in quel momento per non portarmi dietro il generatore o un bluetti era il 230 volte del furgone quindi capite bene che quella batteria da 60 per ora ha lavorato ha fatto il suo lavoro ma aveva bisogno di un upgrading e allora viene il mio soccorso questa una bestia di batteria one roy 12 volte 200 ampere ora è una life po 4 è già il bms integrato la colleghiamo come una normalissima batteria ma con dei parametri di ricarica diversi adesso vi do qualche specifica life po 4 deep cycle batteria al litio dunque è una batteria che chiaramente essendo da 200 per ora ha una misura abbastanza importante perché siamo a 51 profonda 23 e mezzo alta 22 come avete visto ha due maniglie che permettono di alzarla con relativa facilità pesa comunque 21 kg una stessa batteria di questa capacità al piombo sarebbe pesata non so quanto ma sicuramente almeno il doppio arriva già con due viti m8 e i cappucci isolanti per fare i collegamenti quindi esattamente come le altre batterie 12 volte life po 4 che avevamo già visto sul canale abbiamo poi insieme il manuale di istruzioni con purtroppo solo la prima parte in tedesco e la seconda parte in inglese cosa ci può interessare sicuramente la parte del bms del battery management system che troviamo alla loro pagina 0 3 mentre siamo qua vi do qualche altro dato quindi la nostra è la lp 12 200 con appunto una tensione nominale di 12.8 volt una capacità di 200 ampere ora una capacità a livello di energia di 2560 watt ora quindi abbiamo 2 kilowatt e mezzo uno standard come tensione di caricamento di 14 4 una tensione minima di cutoff dove non bisogna scendere di 10.8 ha bisogno di una corrente di carica di 40 ampere al massimo da 100 stesso valore per quello che può essere tirato a livello di scarica mentre come corrente di picco può arrivare fino a 250 ampere come abbiamo visto le viti sono m8 lavora idealmente come tutte le life po 4 da 0 a 45 gradi abbiamo poi le temperature il ciclo di vita che è dato per 3.000 cicli e null'altro nella pagina a fianco abbiamo poi la tabella con tutti i valori da impostare nell'invertero caricatore come abbiamo detto già riassunti per quanto riguarda la carica la scarica e eventualmente la durata della fase di equalizzazione abbiamo poi anche le impostazioni per eventualmente un boost insomma qui troviate tutti i parametri chiari da impostare copiare pari pari nel vostro regolatore di carica o nel vostro inverter ibrido batterie one roy si trovano tranquillamente su amazon dove l'ho prese io hanno anche un sito ufficiale dove costano una cinquantina di euro in meno e purtroppo parliamo di una batteria grossa live po 4 quindi con la miglior tecnologia che abbiamo concreta realmente utilizzabili al momento una batteria che costa circa 900 euro è chiaro che è un prodotto moderno è un prodotto leggero un prodotto versatile io adesso la monterò sul fogone faremo un po' di test e vi farò vedere anche come ho impostato tutti i parametri nel regolatore per gestire al meglio la carica e la scarica i distacchi e gli allarmi di questa batteria non vi ho fatto vedere lo spacchettamento ma arriva semplicemente in una scatola di cartone ben protetta adesso vi faccio vedere il posizionamento provvisorio della batteria e il tipo di collegamento che ho fatto per sostituirla a quella vecchia ok batteria accablata positivo negativo ho usato del cavo da 25 mm quadri sono salito con positivo negativo fino in questa derivazione dove ho i collegamenti con il cavo da 6 che arriva per la ricarica è il cavo più grosso che va ai morsetti dell'inverter ho semplicemente staccato la batteria che c'era prima e ho collegato questa nuova batteria in parallelo tra l'uscita di ricarica del regolatore e l'ingresso di alimentazione a 12 volt dell'inverter e anche la batteria è fissata in modo provvisorio con una cinghia perché sto facendo ancora delle prove dopodiché costruirò dei supporti angolari per tenerla ferma e aggiungerò un gancio di questi per mettere una cinghia un tirante che la tenga giù sul pavimento adesso vi faccio vedere tutti i parametri che ho dovuto impostare nel regolatore di carica il display acceso perché abbiamo collegato la batteria ma il fotovoltaico vedete che è ancora staccato in ordine sui regolatori bisogna collegare sempre prima la batteria e poi dare l'ingresso di ricarica quindi in questo caso il fotovoltaico ora faccio prima tutte le impostazioni di ricarica i pannelli li abiliterò in un secondo momento ok se ben vi ricordate io come regolatore pivere avevo preso il modello più piccolo da 10 ampere era il 12 10 an quindi che gestisce come pannelli fino a 130 watt sul 12 volt e può caricare al massimo a 10 ampere ora chiaramente con un pannello io lavorerò con poca corrente quindi lui continuerà a fare il suo lavoro e la batteria riuscirò comunque a caricarla seppur in tempi molto più lunghi il prossimo step sarà sicuramente aggiungere un altro pannello uguale se riesco a studiarmi come e passare perlomeno al 22 10 che carica a 20 ampere non tanto per i 20 ampere perché non riuscirò comunque a produrli con solo due pannelli messi in parallelo però almeno potrò gestire fino a 260 watt al posto dei 130 dell'attuale per avere comunque un boost in più di ricarica regolatore a parte tenendo per adesso quello che ho con il manuale andrò a fare il settaggio seguendo la procedura dovrò entrare nel menu e selezionare un altro tipo di batteria rispetto a quella che c'era installata adesso noi adesso avevamo installato i parametri per una batteria al gel dovrò passare a dire che stiamo utilizzando una batteria live po 4 controlleremo poi se i voltaggi sono adeguati altrimenti andremo a correggerli in base a quelli indicati dal produttore vi faccio vedere i parametri che ho impostato per la gestione della ricarica batteria tipo utente 200 per ora la tensione di lavoro e tutto rilasciati come erano over voltage disconnected 15 volt charge limit 14 6 questi sono tutti i valori ripresi dal manuale della batteria over voltage reconnected quindi la tensione di riconnessione dall'over voltage 14 2 la tensione di carica con equalizzatore a 14 volt il boost e il float come da manuale hanno la stessa tensione da 13 8 la riconnessione dal boost a 13 2 e la riconnessione del low voltage a 12 4 la riconnessione dopo l'under voltage avviene a 12 e il warning a 11 6 il distacco del low voltage arriva a 10 8 volt e il limite della della scarica 10 4 tempo di equalizzazione o di boost come da manuale sono entrambi a 120 minuti con questi valori riusciamo a gestire la ricarica e comunque la gestione generale della batteria al meglio come dice il produttore della batteria stessa avere un controller con tutti questi parametri che sia un controller separato come questo o che sia un inverteribido è importante per poter gestire qualsiasi batteria con bms integrato ok dopo aver impostato tutto quanto non resta che a testare se riesce a sostenere quello che viene chiesto all'inverter poi chiaramente farò altre prove nell'utilizzo quotidiano allora nel frattempo il sole è arrivato sul pannello gli ho dato anche una lavata già che c'ero la batteria è piazzata tutto ok abbiamo impostato i parametri al momento vediamo un po come stiamo lavorando con i pannelli cioè col pannello a 19 volt sta caricando adesso a 2 ampere perché in questo esatto momento è andato un po via il sole ma è arrivato a caricare anche a 6 7 ampere come batteria mi legge 13 3 13 e 4 la batteria in questo momento sta tirando 5 ampere di ricarica dal regolatore allora vi faccio vedere che adesso sta lavorando col pannello a 17 volt che da 5 ampere la batteria sta prendendo 6.6 ampere di corrente con una tensione di 13,5 volt siamo pronti per fare un test di potenza quindi accendiamo il sezionatore generale vedete che siamo a 13 3 accendiamo l'inverter inverter che si accende con la spia verde abbiamo il 230 volt sui caricatori quindi è regolarmente acceso ora facciamo la prova con il compressore che la cosa più energivora che ho qua dentro lo accendo qua col mio bipolare lui parte vedete che la tensione della batteria scende a 12 7 perché in questo momento sta tirando un kilowatt circa comunque si stabilizza non va troppo giù il regolatore continua a dare 19 volt dal pannello 5 ampere stanno arrivando dal pannello la batteria me la dà a 13 e sta tirando in questo momento 7 ampere quindi l'inverter stava ciucciando da tutto quello che poteva il compressore intanto arrivato a 8 bar quindi ha finito di caricare posso anche staccarlo e non ha avuto nessun tipo di cedimento e qua di autonomia adesso farò un po di test ma ne avrò parecchia perfetto batteria montata abbiamo visto più o meno tutte le fasi di programmazione e di sostituzione che poi alla fine sono due cavi per questa lunghezza e per le correnti che ho io in gioco il 25 mm quadri l'ho ritenuto adeguato tra l'altro non è un cavo che ho comprato ma ce l'avevo di recupero da impianti fotovoltaici di uso diciamo civile che ho realizzato in passato e vedete che fa sempre bene tenere tutto allora adesso con questa batteria lo sto usando da qualche giorno chiaramente non ho nessun tipo di problema l'autonomia è sempre alta la carica calcolate che io sto molto nel furgone sta molto tempo parcheggiato al sole quindi il fatto che carichi a pochi ampere non è un problema perché riesce comunque a caricarla tutta adesso quando avrò tempo se mi capiterà di recensire qualcos'altro magari metterò un regolatore più grosso però come vi dicevo prima dovrei aggiungere almeno un pannello il tetto del furgone quello che è non lo so adesso farò dei test vedrò se comunque riesce a caricarla a sufficienza anche solo con un pannellino e il piccolo regolatore perché se così fosse sinceramente non ho voglia e tempo di stare anche a ampliare il fotovoltaico sul tetto il prodotto è un buon prodotto è fatto bene non è niente di particolare ormai di batterie live po 4 ce ne sono tantissime quindi ne ho già provato un tipo quando ho fatto il test con il voltronic adesso ho provato questa da mettere sul furgone ce ne sono tantissime sicuramente ce ne tante che vanno bene però se fosse stata costruita male avesse dato problemi di funzionamento anomalie temperature troppo alte eccetera e me ne sarei accorto quindi un prodotto che vi consiglio è chiaro che se volete fare l'impiantino in economia questo tipo di batterie non è il prodotto più adatto perché costano parecchio però calcolate che non è escluso che questa batteria magari poi la tiro giù e se capita di provare qualche altro inverter per uso domestico a 12 o 24 volte potrei usarle per fare dei test anche come accumulo domestico buon prodotto vi lascio in descrizione il link sia per amazon che per il sito diretto adesso che ho pubblicato questo video probabilmente vedrò se riesco a contattare il produttore il venditore per avere dei codici sconto nel caso leggete sempre in descrizione perché magari le aggiungo poi col tempo se il video vi è piaciuto un bel like non ve l'ho chiesto inizio video ma ve lo chiedo adesso iscrivetevi perché siamo intorno ai 50.000 non mi serve tanto per raggiungere quel numero che non vuol dire niente ma mi serve per far crescere il canale cosa vuol dire far crescere il canale vuol dire dargli più visibilità gli addetti al marketing delle varie aziende guardano i canali guardano i numeri guardano quanti iscritti o quindi se speriamo che mi venga mandato altro materiale magari più interessante da portare sul canale con delle prove dobbiamo farlo crescere di numeri a voi non costa nulla dovete solo guardare video mettere mi piace soprattutto iscrivervi al canale per me è un investimento ci va del tempo la passione tutto quanto lo sapete io comunque ho un mio lavoro principale mi piacerebbe portare avanti per crescere questo canale senza dover investire troppo di mio ma per ricevere i prodotti ho bisogno di numeri ci vediamo alla prossima ciao da massi dattoli